Buonasera, sono Samuele Delcarlo, sono atleta da due anni che faccio equitazione. È uno sport che secondo me dà una libertà solita per dei ragazzi che hanno dei problemi, tipo i nostri. Perché personalmente mi sento libero di dove non arrivo io, arriva l'animale, comunque sia sempre un proseguo di me stesso. Comunque come attività sono arrivato terzo ai campionati italiani quest'anno. Come ha detto Letizia abbiamo vinto la Coppa delle Regioni anche quest'anno come squadra toscana. Penso che abbiamo fatto un attimo risultato. Sì, penso proprio di più.